Gianmarco Fanelli, consigliere comunale di Leporano, delegato allo sport. Beh, in questa rassegna estiva, in questo restate a Leporano, c'è grande spazio per lo sport. Parliamo di questi eventi. Tante le manifestazioni sportive quest'anno organizzate, oltre al classico torneo ormai dei De Rioni, organizzate in memoria del nostro padrono Sant'Emidio, che ogni anno ha sempre tante e molte sorprese, che non è il classico, ma ogni anno si rinnova sempre. Abbiamo voluto portare alla luce, abbiamo voluto riportare alla luce manifestazioni ormai andate nel dimenticatoio, come ad esempio i giochi senza frontiere, la caccia al tesoro e poi abbiamo anche tante altre attività sportive a livello regionale, infatti il 2 ottobre c'è una gara podistica che vale per corsa su strada a livello regionale appunto. Niente, c'è tanto da divertirsi, sia per i grandi, per i più piccoli soprattutto. Insegna proprio dell'attività sportiva che è salute. Esatto, è proprio questo quello che vogliamo dimostrare, che lo sport è fondamentale soprattutto per i nostri ragazzi. Anche come momento di crescita, di formazione. Crescita, di aggregazione, è importantissimo per la nostra comunità. Abbiamo appunto basato le fondamenta sullo sport come amministrazione e niente, vi aspettiamo in numerosi perché le manifestazioni ci saranno a divertirsi.